Ciao a tutti ragazzi, io sono Andy e oggi siamo qua in questo nuovo, nuovissimo video come vi avevo anticipato dalla giornata di martedì oggi avrei portato questo video che è mercoledì il video probabilmente uscirà giovedì 7 o venerdì 8 vediamo un attimo il tempo di pubblicazione e l'arrivo della miniatura giveaway con in paglio un anno di PlayStation Network dovete seguire delle semplici regole per partecipare a questo contest il contest sarà valido fino a domenica 17 quindi avete circa 10 giorni di tempo per partecipare al contest adesso vi dico le regole per partecipare appunto al giveaway di oggi regola numero 1, 2, 3 mi raccomando lasciate subito un like a questo video iscrivervi al canale YouTube appunto di Noi Malati di Foot se non l'avete ancora fatto e regola numero 3 attivare la campanellina numero 4 ragazzi ringrazio appunto Sultano Video Games la pagina Instagram Sultano Video Games se vi interessa appunto vi lascio anche il link in descrizione sono dei ragazzi, è un ragazzo che vende questi abbonamenti PlayStation da 3 mesi o da 12 mesi a prezzi davvero stracciati se non sbaglio un anno costa 25 euro e il trimestrale tipo 15-18 euro se non sbaglio quindi ragazzi mi raccomando se avete bisogno di PlayStation Network passate dal link in descrizione dite che vi mando la pagina Malati e avete anche un altro sconto del 5% oltre agli abbonamenti PlayStation Network vendono anche dei giochi tutti i giochi per PlayStation in versione digitale regola numero 5 ragazzi è iscrivervi al gruppo Facebook abbiamo appunto aperto martedì vi lascio il link in descrizione mi raccomando iscrivetevi al gruppo che poi approviamo tutte le persone che vogliono appunto inserirsi nel gruppo regola numero 6 ragazzi lasciate un like alla nostra pagina Facebook trovate il link della nostra pagina Facebook in descrizione mi raccomando lasciate un like perché è lì che pubblichiamo tutte le volte l'uscita di un nuovo video regola numero 7 è l'ultima ma quella più importante ragazzi è commentare sotto questo video con un numero da 1 a 1000 perché più o meno le visualizzazioni sono sempre tra 500 e 1000 quindi vorrei far partecipare tante tante persone mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti il vostro numero preferito in caso di estrazione appunto di 2 o più numeri uguali poi io assegnerò in pratica tipo a Pinco numero 1 a Pallino numero 2 a Giovanni numero 3 poi farò un'altra estrazione tra 1, 2, 3 e poi vedrò chi appunto verrà sottreggiato l'estrazione verrà fatta con il solito sito random.org quindi tutto tutto regolare mi raccomando ragazzi qui sotto nei commenti scrivete il vostro numero preferito seguite tutte le altre 6 regole che sono importantissime che ve le ripeto molto velocemente lasciare un like a questo video iscriversi a questo canale attivare la campanellina iscriversi al nuovo gruppo Facebook che vi lascio in descrizione attivare il like cioè lasciare un like alla nostra pagina Facebook e seguire su Instagram sul Tano Video Games se volete contattarlo appunto anche per dei nuovi PlayStation Network da 3 mesi o da 12 mesi o anche per altri videogiochi tipo la Icon Edition costa 50 o 55 euro per PlayStation e FIFA 18 ecco FIFA 18 Icon Edition costa tipo 50 o 55 euro se dite appunto che rimanda la pagina malati avete anche un ulteriore sconto del 5% mi raccomando ragazzi partecipate in tantissimi che la diabendata sia con voi qui da ogni è tutto ci vediamo nel prossimo video bella